E ciao amici sono Lorenzo e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo qua su Trivia Quiz Kingdom Allora, che cosa sono sigarette? Cioè, sono domande facili queste Meglio Qual è il nome del cavaliere e l'insultente di Italo Cavallino? Non lo sa Oddio! A caso, regà! A caso, ve lo giuro Cosa significa? Cap calm? Stai fermo No! Mantieni la camera, è vero Se non sono inglese perché sono stupido Perché non sono inglese? No Allora, regà, adesso facciamo Cerchiamo una cosa Pokémon Vedi che a me piacciono i Pokémon Proviamo Pokémon Pokémon Vai, facciamo questo Giocare Mi sembra simpatico il Pikachu Ok Allora, io sono forte, credo, nei Pokémon Credo Vediamo Nella serie Pokémon X Quando si... Mega pietra No, regà Questo qua non lo so, regà Allora, questo qua non lo so, regà Ve lo giuro Questo qua non lo so Allora, facciamo Pokémon Go No, 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 regà Facciamo anche a quel Pokémon Che forse ce la faccio Su questo Ok, domandina Abitante nel regno Starter acqua Settima generazione Eh, Poplio Ma non mi fa le foto Ieri Chi è? Eh, Mudbray Ok È vero Io ci provo a... Cioè, io ci provo a centrare Mamma mia, regà Allora Allora, qual è la forma base di Magikarp Forma base Lui è un Pokémon di forma base Appunto Cioè, mi sembrava strano Perché è Ghirados Cioè Magikarp è la base Ghirados è quello Spondi correttamente alla domanda Di te ti indicherà Ok Cioè, colto Pokémon Io dal mio secondo Pokémon preferito Rayquo È vero È vero, regà È mega Rayquaza Eh, vabbè E rifacciamolo, regà Abitante del regno Va bene Come si chiama Il leggendario Sole e Luna Nero Eh, Necrozone No, no Niente Che è colto Pokémon Snorlax Ho tutte le domandine Di colore Vaporeon Azzurro Eh, madonna Snorlax ancora Madonna Eh, regà Proviamo questo È troppo forte, regà Quale sono le evoluzioni Di Axel Sì Regà, un pochino di cose Sui Pokémon Lo so In cosa si vuole Che mi corre Inferno No, non fermo È vero È vero Non fermo Stavo scherzando Non sapevo niente Giochiamo ancora E mi arrivano le notifiche Gioco adesso Ok, allora Di che colore è Chotney Skinny Oddio Non lo so Eh Io col topo Come non lo sapevo Neanche chi era Però, vabbè E proviamoci Oh, sempre Queste qua Quale mica evoluzione A Charizard Due Guarda un video Abbiamo vinto Una vita, regà E ci vediamo Dopo Ok, regà Siamo tornati Sempre con la domandina Ma va Sì, regà Ma vabbè Ma io tutti i Pokémon Non li conosco Neanche E vabbè Dai Ah, maronna Eh, regà In questo episodio Ne faremo due Credo Questo qua L'ultimo Dei Pokémon E poi Ne farò un altro Quando hanno creato I Pokémon E vabbè E vabbè E vabbè Che cavolo 1890 Io ho capito 1990 Adesso non stupido Ci sarà un motivo Facciamo l'ultimo, regà Comandina Comandina Ma va Come si chiama Il legionario Di Pokémon Sole Si chiama Solgaleo Questo lo sapevo Stranamente Questo è Lugia 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 Si, Lugia Lugia E questo Ma che ti pareva Il Pokémon Sole e Luna Qual è il Pokémon Ti permette Di spingere Ma Si Mi sembra Machamp Si Regà Vai Adesso Ci abbiamo Il re Sicuro Perfetto Io mi sono ricordata Prima Un Espion Non è Vapore Non è Silvion Non è Quindi Era Silvion Ma giustamente Quindi Regà Adesso Andiamone A fare un altro E Facciamo Clash Royale Clash Royale La Royale Non è Più vite Gratis Ah Grazie Gratis Impossibile Connettersi Ma scusate Tu mi dici Vabbè Va bene Regà Va bene E Regà Nel prossimo Livello Faremo Faremo Five J Mates Clash Royale Magari Facciamo Che me Contro Te E Step Qualcos'altro Qualcosa Novara No Vabbè E Niente Regà E Come Stai 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 Stai